Ed ecco a voi le sorelle fritture, con loro anche il colesterolo, i fritti in tempo, prendono una ciambella bellissima, non mi è mai venuta una ciambella così e che fa? La buttano nell'acqua, poi assassinano, che cos'è? L'acqua, l'acqua di palude, l'acqua di palude perché è così bella l'acqua di palude, poi prendono i nidi, i nidi hanno, cioè, fanno lasciatele stare i nidi, però dicono, vabbè, non ci sono più gli uccellini, prendono i nidi, oppure la lana, la lana da cuscino, quello che volete, Mettete il coperchio e poi mettete la farina sopra, è bello mettere le farine sui coperchi, vedete che fa molto effetto scenografico, quelli si divertono così, e poi c'è una cosa in più da lavare, bellissima, cose senza senza che fanno soltanto le sorelle fritture, poi ammappoliamo questa cosa e grattiamo, dove è presa questa cosa? Cioè, che cos'è? Vabbè, grattiamo del cioccolato e poi, giusto per lavare un'altra cosa, mica potevamo metterla così, ecco, quando è venuto fuori un ammasso tipo il catrame, perfetto, e allora lo passiamo, lo passiamo nella zanzariera, nella zanzariera dove prima abbiamo schiattato delle mosche, il burro, il burro tipo maionese, e lo passiamo anche questo, però, visto che non riesce a passare, lo togliamo e laviamo un'altra cosa in più, completamente inutile, vedete, passiamo questo nella zanzariera, bella, a destra, a sinistra, bollente, mi raccomando, deve essere bollente, poi togliamo dalla zanzariera, perché anche qua abbiamo visto che non setacci neanche per sogno, perfetto, il catrame verde in questa bagnarola, così, vediamo un po' che cosa vogliamo fare, ah, facciamo i plungeck, sì, 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 i plungeck di catrame, bellissimo, mettiamo una forma, due forme, tre forme, quella già era fatta la torta, però siccome, allora, le sorelle fritture non hanno proprio niente da fare, sono tristi, allora che fanno? Fanno come la tela di Penelope, fanno la torta, la schiattano e fanno un'altra torta, fanno la torta, la schiattano e fanno un'altra torta, e fanno così cose inutili per far passare, per aspettare i loro mariti che vengono da Itaca, così funziona la cosa, l'ha messa al fondo, ma questa è più molla di prima, non è cresciuta, ovviamente, perché era cresciuta prima, adesso è un ammasso ignobile di roba che non si capisce più che cosa sia, prende con un cucchiaio questo catrame e lo tira fuori, bellissimo, nella ciotola del cane, cioè, il ciappi del cane ha un aspetto migliore di questa roba, e si frulla! Bello! Bellissimo, frulliamo questo con un poco di mangime per uccellini, adesso fa caldo, il ghiaccio, cioè, diciamo, il minimo proprio, facciamo una bella granita di catrame, un poco di candeggina per sgrassare, che quella fa sempre bene, e bellissimo, ah, bello! Dobbiamo rifrullare tutto, frullato, rifrullato, vedete che bel frappè, vedete, solo 64 ore di, cioè, chi è che non ce li hai? Ah, è velocissimo fare queste cose, non vi lamentate, 64 ore per fare queste, dai!